Come tutti gli anni Croce Verde sponsorizza un progetto per nozioni di primo soccorso e quest'anno progetto vacanze sicure, l'argomento di interesse è l'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età pediatrica e adulti. Quanto aiutano queste manovre e secondo te c'è una percentuale di vite salvate proprio per queste semplici manovre che purtroppo poca gente conosce? Assolutamente sì, l'aiuto dei cittadini è molto importante ed è un anello del soccorso indispensabile, quindi sempre più formazione può aiutare a salvare delle vite, soprattutto questi argomenti come l'ostruzione delle vie aeree, il tempo è il nostro nemico, quindi se abbiamo delle persone formate sul posto che intervengono prima dell'arrivo del 118, le probabilità di successo sono molto molto alte, quindi basta poco per salvare veramente una vita. Basta poco però c'è questo interesse o purtroppo va un po' a macchia di leopardo? Purtroppo come dici te va un po' a macchia di leopardo, non c'è ancora una legge istituzionale che prevede la formazione nelle scuole, l'obiettivo principale sarebbe formare i giovani, già abbiamo fatto un passo in avanti col decreto 81 del 2008 nella formazione nell'ambiente di lavoro, manca ancora la formazione in ambito scolastico perché comunque il futuro del soccorso sono i giovani, se noi riusciamo a formare la popolazione giovanile è ovvio che con l'avanzamento dell'età sono sempre più persone formate, l'obiettivo secondo me veramente sfidante sarebbe formare tutta la popolazione maggiorenne, cioè mettere obbligatorio questo tipo di formazione nell'arresto cardiaco, nella disostruzione e nell'utilizzo del defibrillatore con l'acquisizione della patente B, quindi inserire questa formazione proprio anche con la patente B.